I bilanci sono un'occasione preziosa per tirare le somme. Oggi la condivisione è all'unanimità da parte di soci di Via Acqua, di tutti i sindaci di Via Acqua, del nostro proposto di bilancio che la CDA ha presentato, con utile e importante, con investimenti più alti di sempre, 52 euro per abitante, però il momento della verifica è sempre momento della verifica. Oggi è stata un'occasione bella perché ho sentito, oltre che l'approvazione unanime, anche una calda vicinanza alla nostra società da parte di tutti i sindaci. Questo va dato atto ai miei colleghi del CDA, va dato atto soprattutto alle oltre 300 lavoratori che ogni giorno fanno il proprio dovere a favore di una comunità e amando il proprio lavoro. Sì, come assemblea di coordinamento, l'assemblea che rappresenta i 68 comuni soci, non possiamo che dirci estremamente soddisfatti dei risultati del bilancio 2019, sia per i risultati economico-finanziali, con un utile e importante di più di 5 milioni di euro, che sulla montare degli investimenti, che sono la vera mission di questa azienda, che ha superato i 28 milioni. Si stanno vedendo quindi i risultati della fusione fatta due anni fa tra Acqua e Vicentina e AWS, le sinergie e le efficienze si stanno realizzando, gli indicatori di prestazione sono tutti estremamente positivi. Quindi, grande soddisfazione da parte dei sindaci, abbiamo il compito di esercitare il controllo analogo, lo abbiamo fatto con un lavoro intenso, con molte riunioni con il Consiglio di Amministrazione. Gli obiettivi del 2020 sono ambiziosi, ma siamo molto fiduciosi sulla base di questi risultati di poterli conseguire agevolmente.